Questa c'ha più presa, però c'ha il problema di quel gravine Vedi? La presa ce l'ha, c'è il problema questo, c'è il problema questo Vira! Fabio, hai provato a pensare, no? No, 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 ora poi c'è quello scalino lì No, no, perché gli hai tolto ora? Eh, ma non è morto Scusi Dove vai? Vieni qua Eh, sta così, sta così Oddio Eh Ho, 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 ho! Hai hai, dai, ti ho hai 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 hai